Ora stiamo intervistando il signor Sobello. Signor Sobello, cosa ne pensa di questo ristorante? Un buon ristorante, si mangia bene. Si mangia bene? E' importante che è rimasto contento. No, lui la coca, un bello. Cosa ha bevuto lei? Coca pure? Mezzo bicchiere di birra. Ok, tutto a posto? Diciamo sì. Va bene, l'importante è che siamo... Signora Pisardo, lei come si è trovato? Benissimo. Ci tornerebbe un'altra volta? Yes. Adesso quando? Che voto dà, da qui? Che voto dà, che voto dà? Signor Consoli, cosa ne pensa lei di questo... Ma lo vede. Cosa ne pensa di questa... Di questa... Cosa ne pensa lei? Benissimo, benissimo, benissimo. Tutto bene? Di cosa? Tutto bene questa... Bono, bono, bono. Abbiamo il dolce, il tirami su con le fragole. Stiamo facendo una valutazione su questo... Cosa ne pensate? Cosa ne pensate? Un foto da 1 a 10? 8 più, 8 più. 8 più. Per lei come è andata? Tutto bene? 9, 9. Ah, ha fatto 9 e 9. Ok. Cosa ne pensate? E' molto bene. Questa è un po'